Aria d'Italia, frammenti di cultura italiana, a cura dell'Istituto Italiano di Cultura di Lisbona. Conduce Marcello Sacco, per la parte tecnica Francesco Tomei. Salve e benvenuti ad Aria d'Italia, frammenti di cultura italiana, a cura dell'Istituto Italiano di Cultura di Lisbona. Questa settimana ad Aria d'Italia ci occupiamo di letteratura europea e lo facciamo in occasione di un evento particolare a cui qui a Lisbona eravamo e siamo ancora molto affezionati, La Notte della letteratura europea, edizione 2020, che è un'edizione particolare naturalmente, noir, in onda, perché sarà la radio a ospitare questo evento. Questo evento che negli anni scorsi univa sempre letteratura e patrimonio architettonico, perché era un evento itinerante in cui tanti scrittori europei partecipavano in persona, leggevano brani dei loro libri e poi attori e attrici portoghesi leggevano le traduzioni e il pubblico si spostava da una parte all'altra della città, scopriva nuovi autori e scopriva spazi che alle volte la città celava e non valorizzava come meritavano e come meritano. Naturalmente quest'anno tutto questo non potrà avvenire, ma si svolgerà il tutto nelle sere del 27 e del 28 giugno sulla radio portoghese Smooth FM a cura di Gonzalo Camera. Notte della letteratura europea, che, lo ricordiamo, è un evento organizzato dalla rete EUNIC Portugal. La rete EUNIC è la rete che unisce gli istituti di cultura europei e quindi anche l'istituto italiano ne fa parte. L'evento ha poi il sostegno della rappresentanza portoghese presso la Commissione Europea. L'ospite italiano di questa edizione, che ovviamente parteciperà a distanza, è Francesco Carofiglio, autore del romanzo L'estate dell'incanto, edizione PM. Ecco, lei come racconterebbe in poche parole questa estate dell'incanto? L'estate dell'incanto è la storia di Miranda, è appunto la storia di un'estate, quella del 1939. Miranda ha dieci anni e il mondo è sull'orgo dell'abisso. Ci troviamo in Toscana, tra Firenze e le colline Pistoiesi. E Miranda raggiunge, insieme con sua madre, il nonno paterno, che vive appunto in casale, immerso nella vegetazione, e che lei non conosce. Il nonno è l'ultimo erede di una casata marchesale, ed è un pittore di grande talento, formato sia a Parigi con gli impressionisti e i post-impressionisti. E vive isolato dal resto del mondo. C'è come una sorta di luce magica che sembra rischiarare quella stagione, quel piccolo pezzo di mondo. E Miranda, ormai novantenne, racconta di quella stagione, di quella linea che divide due parti della sua stessa esistenza, quella dell'inconsapevolezza, da quello che seguirà, perché il primo di settembre del 1939 Hitler invade la Polonia. Ritornare a quei giorni, a quella bambina ignara, che non ha ancora visto, vissuto, sofferto, perduto, diventa una sorta di antidoto, quasi l'incantesimo di una giovinezza improvvisa. L'elemento forse più forte, più commovente, è che a narrare questa storia sia una novantenne, quindi un personaggio ormai al capolinea, che cerca di concentrare tutta una vita nei ricordi che le restano. L'idea era un po' questa, cioè l'infanzia narrata già nell'estrema vecchiaia. L'idea in realtà credo che fosse fondamentalmente quella dello stare in bilico, perché questa cosa accomuna queste due donne che sono la stessa persona, Miranda di 10 e Miranda di 90 anni. Trovarsi in bilico sulle sorti del mondo, della propria esistenza, il punto in cui è necessario passare in un equilibrio instabile. Nel primo caso l'equilibrio è sancito proprio da questa linea invisibile che dividerà due stagioni della vita del mondo intero, perché insomma, come dicevo prima, da settembre le cose cambieranno per tutti, e quindi quell'estate meravigliosa dovrà lasciare il passo a un autunno e a delle stagioni successive estremamente dolorose, di consapevolezza. Invece il presente di Miranda, che è pure un presente con un tempo ovviamente molto più limitato davanti a sé, è un presente in cui lei è protesa in ogni caso in avanti, e quindi si muove in equilibrio tra la sua età anagrafica e il senso di esserci, che è ancora un senso di esserci in fondo un po' bambino. Concentriamoci su questa data, siamo nell'estate del 1939. Lei a un certo punto scrive sullo strapiombo del mondo. Come sarà, secondo lei, questo 2020 che molto più modestamente sarà ricordato come l'anno della pandemia? Come si tradurrà in esperienza letteraria, nella letteratura del futuro? Sarà un tema letterario ancora per molto o passerà come un'influenza stagionale? Penso che concentrarci in una sorta di esercizio di stile sulla pandemia non credo che porti molto lontano dal punto di vista creativo, onestamente lo abbiamo fatto per necessità. Forse un modo per porsi nei confronti di questo evento, che comunque è stato un evento epocale, è porre attenzione sulla qualità dei rapporti possibili. Una cosa sicuramente l'abbiamo imparata tutti, alcuni se ne stanno velocemente dimenticando, la capacità di essere vicini alle altre persone è un modo per attraversare la tempesta. Bisognerà ricostruire molte cose, le economie, bisognerà riabituarsi a toccare le persone che ci sono di fronte a noi. Ecco, io credo che se siamo bravi a tenere presente il modo in cui la vicinanza ci aiuta a creare legami autentici, forse questo servirà a segnare un passo in avanti. Ma il mondo letterario ha reagito bene alla pandemia, prima poco fa parlava di esercizi di stile, non so se c'era una nota negativa. Farlo come esercitazione, utilizzando l'opportunità, e metto molte virgolette, che questo periodo ha fornito in termini di creazione, di prospettive narrative distopiche, cose di questo genere, al momento non mi appassiona, posso dire questo. Mi piace pensare che si possano inventare storie nuove che siano sicuramente condizionate da una crescita, perché tutti abbiamo avuto una crescita in questo passaggio, perché la crescita passa attraverso una sofferenza, in questo caso l'isolamento, per alcuni una sofferenza autentica, forte, pesante, la perdita. Ecco, io credo che se questo influenzerà la nostra capacità di esprimereci, sarà una prospettiva anche dal punto di vista letterario e quindi legato alla narrazione interessante. Questa Villa Ada è una fattoria toscana, dove si svolge quest'estate del 1939, gli episodi di quest'estate. All'inizio forse siamo condizionati dagli elementi biografici dell'autore, ci sembra che somigli anche un po' a una masseria pugliese. Poi però invece, continuando nella lettura, è un luogo che prende corpo in maniera prepotente, sembra quasi che la storia sia nata in uno spazio reale, ispirata dai luoghi reali. Anche questa figura del nonno pittore formatosi a Parigi, come nasce? In questa storia ci sono fonti di ispirazione molto differenti. Tra queste c'è anche la radice autobiografica. Io comunque ho vissuto in Toscana, mi sono laureato in architettura a Firenze, quindi ci ho vissuto negli anni, sono molto legato a Firenze e alla Toscana. Io credo che quel periodo mi abbia portato a immaginare lo scenario. Poi tutto entra in un cassetto remoto della coscienza e se non vai a risvegliarlo rimarrà lì. Mi sono ricordato di quei giorni d'estate trascorsi, quando io però avevo poco più di vent'anni, in prossimità di un bosco magico. È lì che io ho visto, e in qualche modo questa rappresentazione è citata nel romanzo, pur nel racconto di Miranda. È lì che io ho visto la più spettacolare esibizione di lucciole che abbia mai visto in vita mia. Alcune figure di questa storia sono forse assimiliabili ad alcuni incontri letterari o cinematografici, ma per me è sempre così, non c'è mai una radice unica. C'è un mondo che si mette in movimento e in qualche modo interviene nel racconto. Parliamo invece della musica di questo romanzo. Non c'è l'esibizionismo della cultura musicale, però i ricordi della protagonista, che sono ricordi intimi, spesso si intrecciano a dei momenti pubblici anche legati alla musica. C'è per esempio la citazione di un famoso concerto della Filarmonica di New York del 6 aprile del 62, si parla di jazz, Jamie Lansford e altro. Come nasce questo contrapunto musicale? È una cosa che in realtà fa parte del modo in cui io lavoro quando scrivo. Io scrivo sempre con la musica. Questo non significa che la musica che ascolto sia descrittiva di qualcosa. A volte è anche soltanto un modo per annullare il mondo fuori, lasciare solo il mondo di questa stanza che suoni con quella musica lì. Però a volte anche le musiche che ascolto, per una osmosi un po' misteriosa, entrano nella storia e quindi la raccontano. Non sono in grado di dire se esattamente quelle di questo romanzo siano entrate direttamente da un ascolto, ma mi è capitato che alcune musiche ascoltate nella scrittura di altri romanzi siano diventate poi la colonna sonora vera e propria di quei romanzi. Quindi sì, il rapporto è molto forte e produce due effetti. Uno è quello della concentrazione, quasi della trance della scrittura, che richiede proprio un annullamento dei contatti esterni. E poi quello del congegno armonico che si crea tra parole e musica, che poi viene citata, viene anche raccontata. Sicuramente il concetto della Carnegie Hall è uno di questi, ma insomma ce ne sono tanti. Direi, aggiungerei non solo musica, ma anche suoni. Credo di aver imparato molto e di continuare a imparare, continuerò a farlo, spero, a lungo, proprio dall'ascolto. Dall'ascolto delle voci, quindi delle persone, dall'ascolto dei suoni della natura e quindi dell'ascolto anche della musica. Il concerto che abbiamo citato è un concerto con Leonard Bernstein alla direzione d'orchestra e Glenn Gould al pianoforte ed è ricordato anche perché ci fu uno strano scontro tra le due stelle. Prima dell'ingresso di Glenn Gould, prima che Glenn Gould si mettesse al pianoforte, Bernstein fece una premessa dicendo che la impossibilità per lui di imporre delle scelte di direzione al pianista avrebbero dovuto consigliarlo di abbandonare il suo compito oppure di cambiare pianista. Però poi quando hai a che fare col genio, a un certo punto ti devi fidare. E quindi ho lasciato che lui facesse quello che sentiva di dover fare all'interno della mia composizione. Io credo che questo sia un segreto dell'arte creativa. Quando viene sviluppata a più mani, bisogna avere un controllo della situazione, una direzione generale, ma poi anche la capacità di fidarsi dell'estro e del talento. Grazie a tutti. Il romanzo alterna situazioni in cui prevale il dialogo fitto ad altre situazioni che possiamo invece definire di puro lirismo. Addirittura si leggono proprio delle tipiche sinestesie come l'odore verde dell'erba. E questo soprattutto quando prevalgono i ricordi di Miranda già vecchia. In quale dei due stili si sente più a suo agio? Non scrivo mai scegliendo di farlo in base a un programma pianificato strategico. Provo a stare sempre nell'urgenza della scrittura. E l'urgenza della scrittura trova forme differenti, che sono quelle che lei ha citato. Per esempio, mi piace muovermi su territori differenti. Questo è vero, è una storia in cui abbiamo un bilanciamento tra due appunto pesi differenti della narrazione. uno che è quello dell'incanto di quella stagione, quindi il racconto di una bambina attraverso la voce di questa donna anziana, vecchia, diciamo, usiamo il termine vecchio che a me piace. Però è il racconto che deve muoversi su quei colori nella descrizione, nella configurazione degli ambienti, dei sentimenti. E poi c'è, come peso contrapposto, il presente che è di una consapevolezza qualche volta anche malinconica, ma non direi che questo è l'elemento principale, è una consapevolezza del tempo che esiste, di un tempo che è comunque un tempo che scade. però Miranda ha sempre uno sguardo proteso verso il futuro. Però questa consapevolezza la porta a riflettere sia sulle piccole cose del presente, sulle piccole azioni del quotidiano, ma anche su tutto questo infinito tempo che ormai è trascorso. E quindi era necessario avere due voci. Il motivo della mia domanda era che era legato al fatto che lei ha scritto anche molto per il cinema. E immagino che nelle sceneggiature debbano prevalere le doti del dialoghista, mentre il lirismo probabilmente esce dalla porta e non so se poi entra dalla finestra in qualche modo. Come funziona? Anche considerando che spesso il lavoro di scrittura per il cinema è appunto un lavoro a quattro, sei, otto mani. Ho esperienze sui vari settori, quindi la scrittura per il teatro, quella per il cinema, quella per la televisione. che cosa e che cosa differiscono fondamentalmente dalla scrittura pura, quindi quella che è destinata alla produzione di un romanzo, di un racconto, è che le prime, queste che ho citato prima, sono comunque un componimento in mediazione. Il risultato finale sarà il prodotto dell'intervento successivo di altre mani dentro questa produzione. Quindi quando io scrivo una cosa per la televisione so che sto fornendo uno strumento a qualcun altro, nella fattispecie il regista, per elaborare il suo percorso creativo, che non necessariamente corrisponderà al mio, come è giusto che sia. Le due figure dovrebbero essere distinte, quella dello sceneggiatore e del regista, o comunque bisognerebbe che il prodotto avesse una base autoriale anche in fase di sceneggiatura. Perché questo ha consentito grandi scambi e grandi produzioni all'ora. credo che l'ossessione a volte di alcuni registi di essere in toto autori del prodotto finale non porti sempre a risultati felici perché bisogna avere il controllo incrociato delle competenze per produrre. E questo nel teatro è molto chiaro. L'autore teatrale scrive, il regista inventerà intorno a quel testo. Quindi c'è una differenza fondamentale poi con il lavoro della scrittore, il quale è responsabile unico di quello che accadrà. Si prende l'intera responsabilità. E poi una differenza di tipo tecnico. La scrittura del romanzo non è una scrittura mediata, è una scrittura che arriverà direttamente al fruitore finale, che in questo caso è il lettore. Ha già partecipato alla Notte della letteratura europea? Conosceva questo evento? E domanda conseguente, esiste secondo lei una letteratura europea o le differenze linguistiche parlano più alto? Non avevo partecipato ancora a quella. Ho partecipato ad altri tipi di eventi collegati alla circolazione europea dei libri, dei romanzi. Non in particolare a questo. La seconda domanda secondo me non ha una risposta secca. Abbiamo influenze completamente differenti. L'aspetto bello e forte dell'opportunità Europa si ha nella capacità di mettere insieme grandi tradizioni culturali, che però hanno delle differenze necessarie. La scommessa europea è anche questa. Ognuna dei paesi europei ha una grande tradizione. Pensiamo non solo all'Italia, alla Francia, alla Spagna, a Portogallo, ovviamente anche ai paesi anglosassoni, e la Germania, e tutti quanti il resto. Insomma, stiamo parlando di grandissime tradizioni culturali. Il fatto che si mettano a un tavolo non può che sortire risultati di grande interesse, perché parliamo di grandi fondamenta. Ora si tratta di capire come far crescere i palazzi con queste fondamenta. A volte ci si riesce, a volte no. Ma io sono assolutamente favorevole a ogni tipo di scambio, a ogni tipo di prospettiva rinnovata attraverso la condivisione. Da una parte si parla di universalismo, di continentalismo, la letteratura europea. Dall'altra guardiamo sempre al regionale. In Italia si parla addirittura di letteratura pugliese. Esiste? I nomi che si potrebbero fare sono tanti. Giancarlo De Cataldo, Nicola Gioia, Mario Desiati, e poi naturalmente lei e suo fratello Gianrico. Guardi, è fuori dubbio che negli ultimi vent'anni si è verificato l'affacciarsi, il consolidarsi, l'affermarsi di una serie di autori pugliesi sulla scena nazionale, internazionale, che fa piacere, insomma, a me pugliese fa piacere, dipendentemente dal mio ruolo all'interno di tutto ciò. Ci sono stagioni nelle città, nelle regioni, nei movimenti culturali. Questo sembra essere davvero la stagione di questa regione. Da tutti i punti di vista si pone in un livello di visibilità straordinario, cioè fuori dall'ordinario. E questo riguarda ovviamente non solo la letteratura, riguarda anche le altre arti, il teatro, la musica, la danza, le arti visive. C'è un fermento che arriva adesso, negli ultimi vent'anni, ma evidentemente è andato maturando nel corso dei decenni, in cui altre città, altre regioni, non riesco sociologicamente a dare una risposta, sento di poter dire un po' per istinto, un po' per quello che vedo intorno, che davvero questo è il tempo un po' anche di questa regione e bisogna essere bravi a dare uno spazio ulteriore perché se sia politicamente che dal punto di vista delle collaborazioni intellettuali, culturali, artistiche, questo spazio lo diamo, questa regione potrà crescere ancora molto. Non ho citato di proposito una scrittrice a cui lei è molto legato, che è Enza Buono, sua madre, credo siciliana di nascita, ma cresciuta, vissuta sempre in Puglia, che tra l'altro oggi avrebbe più o meno l'età di Miranda e a cui lei dedica il libro. È vero, il romanzo è dedicato a lei e in qualche modo alcuni tratti della personalità di Miranda sono influenzati da quanto è accaduto nel corso della scrittura, oltre a fare un lavoro di tipo tecnico sulla scrittura al femminile, indubbiamente il ricordo della voce, dei racconti, della scrittura nitida, potente, evocativa di mia madre, ha molto influito e quindi sono felice di concludere questa conversazione rinnovando la mia dedica, non solo per affetto, ma anche per gratitudine di quanto in tanti anni, ma anche quando mia madre non c'è stata più, è continuato ad arrivare alle mie orecchie e alla mia sensibilità da parte di questa donna straordinaria. Francesco, caro figlio, la ringrazio e le do appuntamento a Lisbona non appena sarà possibile viaggiare come un tempo. Grazie. Sarà un mio piacere venire al più presto, speriamo di vederci presto, grazie. Avete ascoltato Aria d'Italia, frammenti di cultura italiana, a cura dell'Istituto Italiano di Cultura di Lisbona, con Marcello Sacco e alla parte tecnica Francesco Tomei. Grazie. Grazie. Grazie a tutti